A Napoli giornata di manifestazioni e proteste da parte di chi un lavoro ce l'ha ma è precario, di chi è disoccupato e di chi un'occupazione l'aveva ma il contratto scaduto non è stato rinnovato. Ma andiamo con ordine per capire quel grande mosaico che è l'avvertenza lavoro in città. A Piazza del Gesù, concentramento del Movimento 7 Novembre e dei disoccupati 167 Scampia. Sentiamo le ragioni della protesta da Edo Sorge. Sarebbero dovute arrivare risposte concrete rispetto al tavolo su formazione e progetti di pubblica autorità già ad ottobre e novembre. Ennesimi ritardi dimostrano la sordità delle istituzioni mentre decine e decine di disoccupati subiscono denunce per le iniziative di lotta di queste settimane. Poco distante sotto Palazzo San Giacomo manifestazione degli interinali della SIA, la partecipata del Comune per la raccolta dei rifiuti, che l'altro giorno ha inviato 39 lettere di licenziamento. Abbiamo parlato con Pasquale Guarraccino. Sono papà di tre figli e sono un ex percettore di reddito di cittadinanza. Sono stato formato da un navigator, sono stato indirizzato alla formazione da un navigator e sto lavorando come operatore ecologico da un anno per sostituzione. Non sono stato mai fermato. Per un anno e qualche mese ho lavorato sempre di continuo, con un beggio, con un marcatempo, con il vestiario Asia e da un giorno all'altro mi hanno buttato fuori. A Piazza del Plebiscito, infine, la protesta dei lavoratori in somministrazione, che fino al 31 dicembre si sono occupati di immigrazione presso le prefetture e le questure. Dal primo gennaio non servono più. In campagna ne erano un'ottantina. Tra questi Francesco Mincone. Per 21 mesi queste risorse con competenze e professionalità portano avanti questo discorso e di punto in bianco i contratti scadono e il nuovo governo non proroga questi contratti, lasciando degli uffici completamente sguarniti.